Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti su Dragon Ball Legends e benvenuti soprattutto sul canale di Queen & King, Better Than Perfect A quest'oggi in questo nuovo video siamo ritornati in un video summon Dove praticamente andremo a spacchettare la consecutive summon del Ultra Space Time Rush Space Time Rush Speriamo di trovare un personaggio nuovo, vediamo Dai ragazzi, andiamo ad aprirlo Grazie a tutti 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 Poi vedremo nel Black Friday, tanti dicono questo Black Rosé, Black Rosé, che lo dicono da una vita e mezza, però secondo me potrebbero uscire altri personaggi, ad esempio Zamasu Fuso, la fusione di Zamasu, un Vegito Blu, io mi aspetto, perché cavolo, un Black Friday dovrebbe uscire una roba abbastanza... Lo step up se mai non credo perché c'è già stato, poi vabbè, non si sa ancora, non si sa ancora, magari Trunks con la spada leggendaria, non si sa, non si sa, vedremo un po', ecco ragazzi, mettete mi piace, mi piace, fatemi sapere la vostra, noi ci vediamo in un prossimo video, bene ragazzi.